La parola al direttore del mattino, Barbano. Presidente, consiglieri tutti, uomini delle istituzioni, della stampa, delle associazioni, io vi ringrazio di avermi dato la parola e di avermi consentito oggi di festeggiare con voi questa scelta. Vi ringrazio da direttore del mattino perché Giancarlo era un giornalista del mattino e però credo, sento di più, di ringraziarvi da cittadino di questo Paese perché Giancarlo non era solo del mattino e non era solo, paradossalmente, neanche della straordinaria e meravigliosa associazione presieduta dal fratello che, come ha detto, mi ha preceduto, con grande dignità in questi giorni, in questi anni, in questi lunghi trent'anni, ne ha tramandato la memoria. Giancarlo è un simbolo, effettivamente, e in quanto simbolo appartiene a tutti noi, ma non appartiene a nessuno di noi. Perché quando una persona diventa un simbolo assume una condizione di particolare delicatezza, maneggiare i simboli è sempre molto difficile ed è sempre molto pericoloso perché impone una responsabilità, una sobrietà, un rispetto straordinario. E quindi io mi sento di ringraziare Giancarlo e di ringraziare voi non tanto e non solo come direttore del mattino, giornale per il quale Giancarlo lavorava, ma come cittadino di questo paese. E devo dire che in questi tre anni e mezzo di esperienza al mattino, io avevo memoria di Giancarlo perché quando purtroppo accadero i tragici fatti facevo questa stessa professione in una provincia del Mezzogiorno, Italia, dove la camorra era altrettanto, non altrettanto, ma comunque abbastanza presente e quindi già allora il fatto ebbe un eco importante nella coscienza di noi giovani giornalisti che lavoravamo nelle province del sud del Mezzogiorno d'Italia e raccontavamo i fatti di Nera. E tuttavia in questi anni ho avuto modo di percepire direttamente dalla narrazione, dal racconto dei colleghi, ce ne sono due al mio fianco che sono stati amici e colleghi di Giancarlo che poi diranno anche la loro su questo però ho avuto modo da queste narrazioni di capire che cosa era, almeno come me lo sono rappresentato io Giancarlo, come me lo rappresento io e come me lo rappresento? Come effettivamente un eroe involontario ma non inconsapevole. Involontario perché non ha cercato la morte, l'ha trovata evidentemente come un accidente purtroppo della sua esperienza ma non inconsapevole perché sapeva perfettamente che il nemico era pericoloso e lo sfidava non con l'incoscienza non con l'azzardo ma con la responsabilità di chi sente questo lavoro come una testimonianza umile ma decisiva per il destino della democrazia. Questa memoria è transitata tra le generazioni con una straordinaria genuina autenticità. Quando sono venuto al mattino io ho voluto incontrare i collaboratori esterni del mattino ce ne sono molti noi abbiamo 400 collaboratori in tutta la campagna molti di questi sono ragazzi di 20-25 anni che lavorano per poche lire perché oggi l'informazione non è purtroppo un mercato ricco e io ho colto nella memoria di questi ragazzi l'immagine di Giancarlo con una vividezza straordinaria cioè ciascuno di loro aveva in Giancarlo un esempio questo mi ha colpito da subito e mi sono chiesto perché la memoria di Giancarlo ne fa un simbolo unico per gli elementi che abbiamo raccontato che ha detto anche il presidente della regione con parole semplici ma molto efficaci Giancarlo non ha cercato la morte però Giancarlo faceva il suo lavoro correndo sapendo di correre il rischio ed era soprattutto un giornalista bravo perché Giancarlo in quegli anni mise a fuoco alcune delle delle evoluzioni dei cambiamenti che la Camorra attraversava nella sua trasformazione in una holding criminale capace di passare dalla condizione diciamo familista e familiare delle sue origini a una condizione più organizzata più strutturata capace di riciclare capace di reinvestire capace di ripulire e tuttavia dentro alcune arcaiche condizioni che Giancarlo mise a fuoco con straordinaria lucidità con una radiografia che purtroppo gli costò la vita perché se voi aprite il libro che racconta e che sul vostro tavolo gli articoli di Giancarlo ce n'è uno che è quello che poi è stato diciamo il punto cruciale della pista investigativa quel 10 giugno quando Giancarlo racconta il perché dell'arresto di Gionta e lo racconta nel tradimento di Nupoletta dell'accordo con Bardellino racconta che cosa stava accadendo dentro quelle famiglie e lo fa con un'efficacia con una messa a fuoco straordinaria e quando il giornalismo è così efficace e anche tanto invasivo e risulta ai potenti pericoloso se oggi fosse vivo Giancarlo che cosa e fosse un simbolo vivente di questo impegno trentennale che cosa ci chiederebbe non lo so né ho l'azzardo di interpretare che cosa sarebbe stata la sua esperienza professionale di un talento così ricco tuttavia credo che oggi dobbiamo sì difendere la memoria e il ricordo senza mai rinunciare a questo impegno ma dobbiamo anche adottare le nostre conoscenze la nostra esperienza per far sì che quello che abbiamo imparato noi giornalisti voi politici possa avere un effetto concreto in quella che chiamiamo genericamente la lotta alla camorra l'affermazione della legalità una compiuta libertà di stampa impegnandoci perché diventino soprattutto delle precondizioni dell'offerta politica e non il contenuto dell'offerta politica mentre parliamo purtroppo continuano le pistole a sparare e raccontiamo un giorno sì un giorno no quello che accade in questo territorio dove come il nostro lucidissimo Isaia Sales uno degli studiosi più attenti nella valutazione dei fenomeni criminali ci ha detto è avvenuto un fattore nuovo e altrettanto pernicioso e cioè la camorra è riuscita a essere uno strumento di integrazione fittizia in termini di ricchezza di un sottoproletariato urbano a cui non è stata offerta invece un'integrazione civile questo è quello che è sotto gli occhi di tutti noi e purtroppo a questa integrazione fittizia a cui corrisponde ricchezza e quindi rappresenta una sirena anche per i nuovi adepti corrisponde anche a una subcultura che è transitata tra le generazioni perfino nella rete e che fonda un collante straordinario che consente a un giovane camorrista di 24-25 anni arrestato ieri a Scampia per spaccio di continuare a mandare i baci di fronte della telecamera e a dire siamo più forti di prima non è vero però l'ha detto e allora dobbiamo capire che 30 anni dopo quella partita persa e quel sacrificio ingiusto ma non inutile ne sono convinto la lotta alla camorra riguarda almeno quattro pilastri di un'azione politica coordinata che passa sì attraverso la repressione e soprattutto la certezza della pena i magistrati ci dicono soprattutto questo elemento la certezza della pena che è in discussione e che non si fa in sede di custodia cautelare ma piuttosto in sede di esecuzione delle condanne e dei giudicati il welfare nei confronti delle popolazioni deboli la riqualificazione urbana che è stata la grande incompiuta o la grande rinuncia di tutte le politiche di questa città negli ultimi 30 anni e da ultimo la formazione la scuola ecco voglio chiudere sulla scuola perché mi pare che su questo ci sia stato una richiesta e un impegno non ancora strappato alle istituzioni da parte dei preti antica morra e delle associazioni che si raccolgono dentro il gruppo del popolo in cammino che il mattino ha raccontato che cosa chiedevano in quel documento fatto circolare qualche mese fa che le scuole della città di Napoli ma mi piacerebbe dire almeno di tutto l'interland di Napoli ma forse sarebbe bello dire in questa sede di tutta la campania restassero aperte il pomeriggio con attività soprattutto nel periodo estivo in cui la scuola si chiude e molti giovani tornano nella giungla delle loro relazioni umane a rischio io non lo so se questa sia una competenza del Consiglio regionale se ci siano strumenti procedure legislative possibilità accordi parterariati con altre istituzioni però credo che questa sarebbe una misura concreta assieme ad altre misure di azione specifica in un convegno recente organizzato dal povero Luca De Filippo il quale voleva in qualche modo celebrare l'impegno del padre per i giovani di Nisida il responsabile della presidenza del Consiglio per la giustizia minorile il dottor Cascini disse una cosa molto importante iniziamo dai figli dei camorristi ci sono almeno 1500 ragazzi a Napoli che sono figli di camorristi e che non sono camorristi perché non iniziamo a occuparci di loro con un programma specifico diretto mirato ieri ho ricevuto ho incontrato il presidente della fondazione del premio Napoli Gabriele Frasca che ha avviato un'attività molto importante nel carcere nei carceri di Secondigliano e di Poggio Reale con degli incontri con i detenuti perché il carcere come ben sappiamo è sede di espiazione ma è anche sede di rigenerazione di ravvedimento e di riscatto e mi ha detto purtroppo io sono solo ma perché il Comune e la Regione non pensano che con queste due strutture i carceri dove vengono confinate le persone che hanno sbagliato anziché alzare un fossato aprire un fossato che fa ancora più distanti queste parti della società non cerca di ravvicinarle di recuperare questa distanza che si è aperta mi aiuti mi ha detto a far capire alle istituzioni che l'impegno nel carcere è un impegno decisivo ecco io credo che queste siano le cose che possono insieme alla memoria io non voglio negare il valore della memoria e siamo qui perché quella memoria ci parla e ci induce però a fare però sono queste le cose da fare io vi chiedo espressamente in conclusione di questo mio intervento ringraziandovi per la grande sensibilità che avete avuto un impegno specifico e preciso sull'apertura delle scuole campane e di questa città soprattutto in estate e spero di poter raccontare sul mattino azioni concludenti in questa direzione grazie 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 grazie